tutti che conoscono il mio passato sanno che sono un ambientalista e però sono molto contento che anche con il movimento 5 stelle questa sensibilità ci sia per l'ambiente ma è per la tutela dei diritti animali all'interno del programma abbiamo previsto di realizzare un nuovo gattile per il territorio di mestre e la terraferma visto che non c'è una struttura simile abbiamo anche immaginato di fare una convenzione tra il comune e una serie di veterinari che si mettono a disposizione per gli interventi emergenziali a favore appunto di tutti gli animali abbandonati e quindi contrastare così il fenomeno del randagismo e vogliamo infine realizzare un nuovo canile il canile di san giuliano è assolutamente da demolire perché in condizioni di estremo degrado occorre quindi per il benessere e la dignità degli animali realizzare una nuova struttura e poi favorire le adozioni dei cani attraverso un sistema premiale cioè uno sconto sulla tariffa rifiuti per tutte le famiglie che vogliono adottare un cane vi chiediamo di votare movimento 5 stelle votare sottoscritto come candidato sindaco e votare finalmente per l'onestà